Ciao a tutti e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Belluno Calcio in Rete. Quest'oggi eravamo al Polisportivo per seguire l'anticipo di campionato tra il Belluno e il Pordenone. Purtroppo anche quest'oggi dobbiamo commentare una sconfitta da parte della squadra di Mister Vecchiato che sta superata per 2-0 dal Pordenone. Io vi lascio alle immagini della partita e alle interviste che abbiamo raccolto. Come sempre al Polisportivo anche quest'oggi un'associazione benefica, quest'oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere la Presidente dell'Asta, la signora Alice Burigo che ci spiegherà un po' meglio questa associazione. Intanto grazie di essere qui e le lascio la parola. Buongiorno a tutti, sono Alice Burigo, sono il Presidente dell'Associazione Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Un'associazione relativamente nuova, è stata costituita nella primavera del 2010. Le finalità dell'associazione sono quelle di far conoscere il più possibile, divulgare quelle che sono le difficoltà di apprendimento, questi disturbi specifici dell'apprendimento, il più conosciuto dei quali è la dislessia. Si tratta in buona sostanza di una difficoltà che i bambini e i ragazzi hanno di decodificare simboli grafici e numerici. Ciò ovviamente ha delle ripercussioni su quelli che sono il rendimento scolastico, sulla comprensione del testo e ci possono essere delle ricadute negative anche sulla stessa personalità del ragazzo e sulla sua autostima. Se ovviamente ha delle difficoltà nell'ambito scolastico, ciò si può ripercuotere anche sulla sua vita privata e personale. Quindi dal 2010 abbiamo fatto tutta una serie di attività, in particolar modo nei primi due anni ci siamo orientati soprattutto su quella che era la formazione degli insegnanti, che sono ovviamente le persone preposte all'insegnamento e quindi che stanno più vicini ai nostri ragazzi, ai nostri bambini per molte ore e proprio che sono indirizzati proprio all'insegnamento. Ci siamo anche occupati di fare diverse conferenze in giro per la provincia per cercare di mettere in risalto appunto questa difficoltà dei ragazzi e per cercare di far capire quali sono le possibilità per aiutarli, possibilità concrete, sia con strumenti compensativi e dispensativi che possono essere utilizzati nella scuola e anche dai genitori a casa, durante i compiti a casa, ma anche per informare il più possibile su quale è per esempio la possibilità di fare uno screening il più precoce possibile. Prima arriviamo ad intuare la difficoltà e prima viene risolta o comunque aiutiamo questi ragazzi a risolverla. Dall'anno scorso ci siamo focalizzati maggiormente invece su quello che è il sostegno dei genitori che sono sostanzialmente l'anima della nostra associazione e quindi ci sembrava giusto dare un sostegno anche a loro perché alcune volte non sanno veramente dove sbattere la testa, hanno difficoltà a interloquire sia con le istituzioni sociosanitarie sia con l'istituzione scuola e quindi era giusto dare loro degli strumenti per poter individuare quali sono i loro doveri ma anche quali sono i loro diritti. Quindi queste sono le attività che abbiamo svolto in questi appunto quattro anni di vita. Prossimamente verrà fatto un corso di parent training ad Agordo, dovrebbe partire se tutto va come deve andare il 22 di aprile, ci saranno appunto degli incontri per genitori tenuti da una psicologa. Abbiamo appena terminato sia su Belluno sia su Feltre dei corsi sempre per genitori molto mirati alla comprensione del testo e alla realizzazione delle mappe concettuali che sono due elementi fondamentali per poter sostenere appunto i ragazzi. Queste le nostre attività, le nostre finalità, i nostri numeri di telefono e l'email li avete anche sul cartellone e se avete bisogno contattateci. Inizia la partita. Giornata nuvolosa al polisportivo. Mister Vecchiato inserisce Nenzi in mezzo al campo e Sommacca il trazino sinistro. Il diciassettesimo padrone pericoloso in attacco ma il tiro di sinistro di Nicchia da pochi passi finisce fortunatamente sul fondo. Al ventitresimo Belluno vicinissimo al vantaggio con Mosca che sugli sviluppi di una furiosa mischia in aria di rigore calcia alto da buona produzione. Due minuti più tardi ancora Mosca ci prova da fuori aria ma il suo tiro di destro termina alto sopra la traversa. Al ventiseiesimo occasionissima per il Belluno con Corbanese che imbeccato perfettamente a centro aria da Dinka si fa parare il tiro di sinistro da dentro l'area di rigore. Al trentottesimo punizione laterale di Mosca dalla sinistra. Al centro aria sbuca Sommaccail che di testa costringe il portiere ospite a un vero e proprio miracolo e a deviare la palla in corner. Al quarantacinquesimo l'argo di decada alla fine del primo tempo. Acibelluno Pordenone 0 a 0. Vi lascio alle interviste raccolte tra il primo e il secondo tempo. Marco Duravia oggi in tribuna per scontare il turno di squalifica come hai visto il primo tempo della tua squadra? Il primo tempo molto buono direi abbiamo fatto una partita orgogliosa, una partita maschia. Secondo me abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto delle occasioni per passare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Loro sappiamo che fino all'ultimo sarà dura contenerli perché hanno tanti cambi, giocatori di qualità anche in panchina, però devo dire che sono molto contento dei miei compagni. Il gruppo oggi per questo primo tempo si è visto, ha fatto una gran bella partita. C'era forse magari la paura dopo il pesante 4-1 della scuola di settimana di incappare magari in un'altra giornata? No, oppure eravate sicuri di poter fare una buona partita anche nonostante il blasone del Pordenone? Devo dire che la delusione è normale che ci fosse dopo la partita di domenica, di sabato. Sappiamo che è stato un brutto passo falso, però dal canto nostro siamo consapevoli delle nostre capacità perché abbiamo dimostrato in tutto il campionato, di tenere testa a quasi tutte le squadre. Perciò non c'era sicuramente paura, certamente rispetto per il Pordenone perché è normale una squadra che a seconda in classifica con tutti questi punti viene qua per vincere. Bobo Moretti, la scorsa stagione faro del centrocampo del Belluno, quest'anno alla Plavis. Come hai visto questo primo tempo della squadra gialloglu? Allora, ho visto una squadra sicuramente con voglia di combattere, un Pordenone secondo me sotto tono e quindi secondo me il Belluno può giocarsi le sue chance. Hai visto in campo, almeno per questo primo tempo, la differenza di classifica e di punti? In questo primo tempo sinceramente non l'ho vista, il Belluno ha giocato alla Pari, secondo me anzi costruendo qualcosa in più sotto porta e se l'avesse sfruttata secondo me non c'era niente da dire. Bobo è anche il fratello di Lorenzo che sta giocando a Bologna, dacci magari qualche notizia, qualche informazione su Lorenzo. Beh, Lorenzo ha perso un sacco di chili, prima cosa, si sta allenando molto, con la scuola riesce a fare lo scientifico nonostante tutto, anzi sta prendendo bei voti e in campionato gioca sia in primavera che con gli allievi ed è molto soddisfatto e anche la società ci ha fatto sapere, il Bologna, che è soddisfatta di lui. Inizia la ripresa, al cinquantesimo colpo di testa di Florian da dentro l'area di rigore, palla fuori, al cinquantaquattresimo punizione a giro di Mosca che pesca a centro l'area calcagnotto, il colpo di testa però del centrale gialloglu finisce fuori, al cinquantacinquesimo gol annullato dal Pordenone per una presunta posizione di fuorigioco di Florian. Al sessantesimo colpo di testa di Maccanda dentro l'area piccola, parata distinto di Schincarioli. All'ottantesimo arriva il gol del Pordenone con Zanardo che si inclune alle spalle di Paganini e di sinistra in diagonale supera Schincarioli, è il vantaggio del Pordenone. Al novantesimo secondo gol del Pordenone, cross tagliato dalla sinistra, a centro l'area sbuca Buratto che in secca il definitivo 2-0. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro del Ketra alla fine della partita, il Pordenone supera la Cibel 1 per 2-0. Mister Verchiato, purtroppo la tua squadra è uscita sconfitta per 2-0 nella super sfida contro il Pordenone, un buonissimo primo tempo da parte della tua squadra, poi nella ripresa a causa anche di qualche infortunio dei tuoi ragazzi hai dovuto rivoluzionare un po' la squadra e sono arrivati i due gol. Come giudi comunque in generale la prestazione dei tuoi? Al primo tempo è stato fatto bene, sinceramente meritavamo anche il vantaggio per le occasioni create perché noi abbiamo creato tre occasioni limpide contro penso una e il risultato giusto era essere il vantaggio 1-0. Poi è chiaro che attualmente abbiamo dei problemi tra squalifiche e infortuni, Masocco ha giocato con grosse difficoltà, sapevo di velo cambiare. Pordenone sicuramente ha aumentato l'oppressione, hanno fatto dei cambi importanti perché poi sono una rosa come Marano, però noi veramente non potevamo fare di più oggi nelle condizioni che avevamo, l'unica cosa è essere in vantaggio al primo tempo, quello sì, quello dovevamo essere almeno 1-0 al primo tempo. Partito sarà fuori anche Corbanese, poi staremo a vedere un po' in settimana i vari acciaccati, le prossime partite bisognerà vincerle diciamo più con il cuore che magari con il bel gioco? Sì, sì, adesso abbiamo fuori Corbanese, rientreranno due squalificati e noi andiamo a mezzo corone per vincere la partita perché dobbiamo provare le ultime quattro partite per vincere il più possibile per coronare un sogno, una stagione incredibile, per arrivare al quarti e poi vediamo. Sinceramente io non posso dire niente ragazzi, ma penso che nessuno possa dire nulla ai ragazzi, nessuno. Ieri Masoc, sei uscito pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, come hai visto questa, come giudichi più che alto questa sconfitta della tua squadra e poi come stai? Ma allora guarda, io ho stretto un po' i denti all'inizio della partita, il mister sapeva già in che condizioni ero, ho un principio di stiramento sull'aduttore, quindi finché sono riuscito a sopportare del male sono stato in campo per dare una mano alla squadra. Secondo me in emergenza come eravamo, numerica, vista l'assenza di Duravia e Bertagno, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, è stato bravo anche Nenzi, non è mai facile secondo me, era la prima volta che faceva 90 minuti, li ha fatti con la seconda in classifica, quindi e poi tutti i ragazzi che sono entrati nel corso della partita, che avevano sempre giocato poco, bisogna fargli un applauso insomma, perché hanno fatto il massimo che potevano e non si sono tirati indietro. Ti ripeto, al primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni nitide, che se per caso vanno dentro, un po' per bravole del portiere, un po' per demerito nostro, non abbiamo saputo sfruttarle a dovere. Se vanno dentro cambiano la partita come al solito, poi il secondo tempo fa un po' storia a sé, perché tra Rosa, loro e condizioni nostre un po' precarie, è venuto fuori questa sconfitta. Damanus Kinkariol, purtroppo siamo qui a commentare la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella nel derby, come l'hai vista dalla tua porta alla prestazione della squadra? Sicuramente la squadra ha avuto una reazione dopo il derby, c'è stato il primo tempo, potevamo essere tranquillamente in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, e con una squadra forte, con una rosa ampia come la loro, c'è il rischio che basta facciare un cambio per segnare. Comunque la prestazione secondo me è stata buona. Nel primo tempo, come dicevi tu, abbiamo avuto qualche occasione, soprattutto quella con Corbanese, di poter passare in vantaggio. C'era magari, secondo te, un po' la paura dopo la sconfitta nel derby, magari anche dal punto di vista psicologico, di avere il contraccolpo, che fortunatamente però non si è visto oggi, soprattutto nei primi 45 minuti. No, beh, secondo me, io ho più che paura di subire il contraccolpo, ho visto voglia, voglia di riscattarci, e questo è stato importante, insomma. Siamo arrivati quindi al termine di questa puntata di Belluno Calcio in Rete, dedicata completamente alla prima squadra. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.